Portiere della Paganese, forse con qualche colpa in occasione del gol, la palla al centro di testa Fava, sotto misura il tocco della Salernitana che raddoppia con Falzerano. Falzerano che poi va a correre verso tutta l'altra zona del campo per abbracciare un addetto a bordo campo, il raddoppio di Falzerano che ha trovato davanti la palla della gioia incredibile al trentacinquesimo e va a mettere il sigillo su un 2-0 che a questo punto consente alla Salernitana di poter gestire forse, anzi senza forse con maggiore calma, un arroventato finale. Si è stato molto bravo Falzerano a farsi trovare non in fuorigioco perché la Paganese aveva ancora il giocatore sul palo perciò ha stoppato di petto e ha girato molto veloce come nel suo, quello qui lo vedi che c'è l'uomo sul palo dall'altra parte che lo tiene in gioco.